La stagione NBA 2022-23 si è ufficialmente conclusa, è quindi ora di valutare l'operato delle quattro franchigie rimaste per ultime a giocarsi l'anello. Questa è la quinta e ultima parte delle pagelle NBA 2022-23. Boston Celtics, voto 5,5. Quella dei biancoverdi è stata un'annata ricca di vorticosi saliscendi. La marcia di avvicinamento ha subito un forte scossone con l'improvviso allontanamento di coach Imei Udoka, rimpiazzato dall'esordiente Joe Mazzulla. Anche il presunto inserimento di Jalen Brown fra le contropartite offerte a Brooklyn per arrivare a Kevin Durant rischiava di minare gli equilibri del gruppo, ma l'avvio di regular season ha spazzato via ogni incertezza. Boston ha dominato a lunghi tratti la Eastern Conference, guidata proprio da Brown, che ha disputato la migliore stagione in carriera, dall'impatto dalla panchina di Derek White ed il sesto uomo dell'anno Malcolm Brogdon e da Jason Tatum stellare, che con i suoi 30 punti di media è stato a lungo fra i candidati MVP. Il lieve calo mostrato in primavera dai Celtics è stato il preambolo per dei playoff tutt'altro che entusiasmanti. I numerosi passaggi a vuoto hanno prima allungato più del previsto la serie contro Atlanta, poi sono quasi costati l'eliminazione contro Philadelphia. In svantaggio 3-2 e con una gara 6 da giocare in trasferta, sono servite le magie di Tatum e il crollo degli avversari per portare a casa la pellaccia. Gli aguerreti Miami Heat, però, non hanno fatto prigionieri, maltrattando per tre partite dei Celtics piatti e disorientati. L'orgoglio bianco-verde ha fatto sperare i tifosi in una rimonta mai riuscita prima nella storia NBA, ma nella decisiva gara 7 al TD Garden sono scesi in campo solo gli Heat. Perdere l'ultimo incontro di una finale di conference non dovrebbe essere considerato una delusione, ma Boston, dopo le finals del 2022, aveva un lavoro da portare a termine e la missione è fallita. Considerando l'imminente rinnovo del contratto di Jalen Brown e i precedenti tentativi andati a vuoto, il dubbio è più forte che mai. C'è ancora tempo per puntare a quel dannato titolo? Denver Nuggets, voto 9. Ad aprile 2021, dopo la trade che aveva portato il colorado Aaron Gordon, i Nuggets stavano emergendo tra i favoriti per il titolo in una selvaggia Western Conference. Poi ecco il grave infortunio al ginocchio subito da Jamal Murray, che ha infranto bruscamente i sogni di gloria. Senza il numero 27, costretto a saltare l'intera stagione successiva, Denver ha dovuto interrompere prematuramente due edizioni di playoff nonostante la vertiginosa ascesa di Nikola Jokic, che si presentava entrambe le volte da MVP della regular season. Quest'anno, con il roster finalmente al completo e con la preziosa giunta di Kentavius Calderpope in estate, appariva come la prima vera occasione per arrivare fino in fondo. Gli uomini di coach Michael Malone non hanno deluso le aspettative. Giocando una palla canestro corale e divertente, hanno dominato in lungo e in largo la regular season, guardando sempre dall'alto in basso la selvaggia lotta per il posizionamento playoff. Un lieve calo in avvicinamento alla postseason ha illuso qualcuno che la strada per le Finals fosse aperta, ma le giochie sono state ristabilite presto. Denver si è sbarazzata senza problemi dai rimaneggiati minisotto a Timberwolves, poi ha rispedito al mittente l'assalto di Devin Booker, di Kevin Durant e di una versione dei Phoenix Suns ancora indecifrabile. In finale di conference li ecco i Lakers, che avevano sbarrato loro la strada nel 2020. Stavolta il posto di blocco è stato forzato con rabbia. Jokic, Murray e i compagni hanno dato una dimostrazione di superiorità impressionante, dominando in attacco e mostrando enormi miglioramenti in fase difensiva, considerate il loro presunto tallone d'Achile e la Vigilia. Giunti alle prime NBA Finals della loro storia, i Lakers non hanno mostrato alcun timore reverenziale, negando il lieto fine alla favola Miami Heat e marciando con autorità verso uno storico titolo. Ci sono riusciti grazie a uno straordinario Jokic, premiato come Finals MVP dopo aver fatto il bello il cattivo tempo per tutti i playoff, ma anche grazie a un Jamal Murray decisivo nei momenti caldi. A uno spaziale Aaron Gordon, determinante in attacco ma soprattutto in difesa. A lavoro sporco di Michael Porter Jr., che ha compensato qualche passaggio a vuoto di troppo in fase realizzativa. Alla versatilità di KCP in quintetto ed all'impatto della panchina, dove si sono distinti il tuttofare Bruce Brown, il sorprendente rookie Christian Brown e il veteranissimo Jeff Green, che corona con il titolo una lunga e avventurosa carriera. Ci sono riusciti anche grazie a un grande timoniere, Coach Malone, che ha guidato sul tetto del mondo NBA una squadra con tutte le carte in regola per rimanere lassù negli anni a venire. Los Angeles Lakers, voto 7. È difficile ricordare una stagione più assurda e imprevedibile del 2022-2023 giallo Viola. L'inizio è stato da incubo. Le sconfitte si accumulavano, Russell Westbrook viveva da separato in casa, Anthony Davis era sempre in infermeria e il supporto in casa sembrava quello di una squadra di ricostruzione. L'unico motivo di interesse era dettato dall'inseguimento di LeBron James, che il 7 febbraio ha superato Karim Abdul-Jabbar diventando il miglior realizzatore nella storia NBA. Avvicinandosi alla trade deadline, la dirigenza ha compiuto un mezzo miracolo. L'accessione di Westbrook e gli innesti di Rovia Cimura, D'Angelo Russell e Jared Vanderbilt hanno trasformato un gruppo allo sbando in una pericolosa outsider nella corsa al titolo. Arrivati in qualche modo alla post-season, i giallo Viola hanno approfittato con grande esperienza dei difetti altrui. Al play-in si sono liberati degli incertati Timberwolves, poi hanno rimandato a casa i malridotti Grizzlies e hanno esposto tutti i limiti dei crepuscolari Warriors, facendo forse calare il sipario sulla più grande dinastia contemporanea. Ci sono riusciti grazie a King James in versione facilitatore, ma ancora decisivo. Ha un Davis finalmente in salute e ha i tanti gregari, su tutti Austin Reeves, che di volta in volta hanno saputo fare un passo avanti al momento giusto. Contro la corazzata da Amber Nuggets, però, non ci poteva essere storia. Il roster di Coach Malone era più talentuoso, più coeso e più versatile. Nonostante un risultato più che positivo, considerate le premesse, il futuro dei Lakers rimane piuttosto indecifrabile. Lebron ha paventato l'ipotesi di un ritiro, che però andrebbe eletta più come un avvertimento al front office. Il tempo scorre inesorabile, e per tornare a vincere non si può più aspettare. Miami Heat, voto 8,5. La regola del season di Miami è stata quanto di più mediocre ci si possa immaginare. Il sesto peggiore attacco NBA, e capace di superare le tre vittorie consecutive solo col filotto casalingo contro Pacers, Thunder, Rockets e Spurs, gli uomini di Coach Eric Spurstra hanno gravitato stabilmente in orbita play-in. A tenerli a galla sono stati principalmente Bema Debaio, tornato finalmente in versione All-Star, Tyler Herro, promosso a titolare dopo l'estensione di contratto, e Jimmy Butler, votato nel secondo quintetto All-NBA, ma protagonista di un avvio sonnolento. Un pessimo torneo play-in, con la batosta subita in casa per mano di Atlanta e la sofferta vittoria contro Chicago, facevano pensare che il primo turno sarebbe stata solo una formalità per i loro avversari, i favoritissimi Milwaukee Bucks. È stato solo il primo di una lunga serie di errori di valutazione. Miami, più cattiva e organizzata e guidata da un monumentale Butler, ha saputo sfruttare al meglio ogni debolezza di Milwaukee, priva di Yannis Antetokounmpo per tre partite, e ha fatto lo stesso con i lanciatissimi New York Knicks al secondo round. La finale di conference sembrava lo scontato capolinea, ma i Boston Celtics sono stati travolti da un gruppo in missione, guidato dagli undrafted Gabe Vincent, Max Truss e Caleb Martin, e da veterani di mille battaglie come Kyle Lowry e Kevin Love. Butler e le compagni hanno infranto le speranze di una storica rimonta bianco-verde, tornando alle NBA Finals esattamente come nel 2020, nella sorpresa generale. I Denver Nuggets, però, non si sono fatti sorprendere, dimostrando sul campo di essere una squadra nettamente più talentuosa, profonda, solida e organizzata. Come è capitato più volte in questi anni, la domanda sorge spontaneamente. Questi hit possono ancora migliorare, oppure sono già andati ben oltre i loro limiti. Questa era la quinta e ultima parte delle pagelle NBA 2022-23. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.